Hai una firma digitale di un qualsiasi gestore o la firma remota Aruba? Firma i tuoi documenti per email in modo semplice e sicuro. Puoi farlo quando scrivi un messaggio, quando rispondi o inoltre un'email. Puoi anche salvare le tue preferenze per firmare ancora più velocemente. Se non ce l'hai, ma ti piace l'idea, la puoi acquistare da Webmail. Vediamo come si firma un documento. Accedi a webmail.aruba.it con il tuo indirizzo di posta e la password. Una volta dentro vai su impostazioni e poi seleziona firma digitale. Da questa schermata puoi scegliere la firma che utilizzerai. Se hai una firma digitale remota Aruba, seleziona questo metodo e inserisci il nome utente della firma. Compila lo spazio del dominio dedicato di firma solo se sai di averne acquistato uno. Nella maggior parte dei casi non serve. Se hai una firma digitale con dispositivo, cioè un lettore da tavolo o una penna USB, seleziona questo metodo. Scegli anche il formato di firma che preferisci. Se passi il mouse accanto a ciascuna delle opzioni, ne trovi una piccola descrizione. Al termine premi salva. Finita la configurazione, sei pronto per firmare un documento. Vediamo i tre casi in cui puoi farlo. Cambia solo il pulsante da premere e la gestione iniziale dell'allegato. Il processo vero e proprio di firma è sempre lo stesso. Se quello che ti serve è inviare una nuova email, ti basta premere il pulsante Scrivi in alto a sinistra. Dall'editor, seleziona firma e allega. Ora carica il tuo allegato. Puoi trascinare il file nella finestra o premere il pulsante per cercarlo nel tuo PC. Una volta caricato, selezionalo e vai su Prosegui e firma. Sono preselezionate le scelte che hai salvato nelle impostazioni. Se il file che hai caricato non è compatibile con il formato che hai scelto di default, potrai scegliere quello che vuoi usare tra le opzioni disponibili. Quello che devi fare ora dipende dalla firma digitale che hai selezionato. Se hai quella remota, non devi fare altro che inserire la password. Se nelle impostazioni non lo hai salvato, devi inserire anche il nome utente. Se vuoi salvarlo questa volta, spunta la casella per farlo. Ora genera il codice monouso dall'app Aruba OTP. Dopo averlo inserito, premi Prosegui. La schermata ti mostra l'esito dell'operazione di firma. Se è stata eseguita correttamente, premi Chiudi e Allega. Se hai la firma digitale col dispositivo, per prima cosa collegalo al tuo PC o Mac e poi seleziona Prosegui. Se è la prima volta che utilizzi la firma digitale in Webmail, ti compare la schermata Installa Aruba SDK Web. Seleziona il pulsante relativo al tuo sistema operativo e scarica l'estensione. Completato il download, vai nella cartella dove si trova il file e installalo seguendo la procedura guidata. Terminata l'operazione, premi il pulsante e ricarica pagina in fondo alla schermata di Webmail. Scegli il certificato, tra quelli comunicati automaticamente dal dispositivo, e poi seleziona Prosegui. Inserisci il PIN della tua Smart Card. La schermata ti mostra l'esito dell'operazione di firma. Se è stata eseguita correttamente, premi Chiudi e Allega. Se ti occorre rispondere a un'email firmando nell'allegato, ti basta selezionare il messaggio dalla posta in arrivo e, nella finestra di anteprima, premere Firma Allegati e Rispondi. Troverai l'allegato già in elenco. Se vuoi, puoi anche caricarne altri. Seleziona il file che vuoi firmare e vai su Prosegui e firma. Il resto del procedimento è identico a quello descritto per l'invio di un nuovo messaggio. Anche l'inoltro di un messaggio funziona allo stesso modo. Dopo aver selezionato dall'elenco l'email che ti interessa, premi in alto il pulsante Inoltra. Nell'editor del messaggio dovrai andare su Firma i documenti in allegato e, per la firma, procedere nello stesso modo degli altri due casi.